Nella parrocchia di San Salvatore, che il cristianesimo riconosce in Gesù, il Salvatore, la cui chiesa dedicata è quella di San Dionigi in via Palestro, il cittadino generale, innanzi al popolo festante, fra lo sventolio delle bandiere e il suono di pifferi e tamburi, proclama per l'anno 2018 a Bà Giulia Landorno. Grazie. Grazie. Grazie.